Salve a tutti, sono Mattia per le amiche più intime Matioschi, e sono qui quest'oggi per darvi il benvenuto nuovamente alla cantina di Mos Eisley, oggi parleremo della minaccia fantasma e quindi di tanti argomenti, sia sportivi, visto che a quanto pare la gara di sgusci a Mos Espa è stata vinta da un bambino, non si era mai visto prima nella storia della competizione, sia di politica, tantissima politica, voti di sfiducia, embarghi, tasse, un sacco di argomenti interessanti, lo faremo con i consueti ospiti, oggi purtroppo Andros è stato vittima di un embargo e quindi non è riuscito ad abbandonare il suo pianeta natale di Coreglia, ma abbiamo ad esempio Giovanni di Star Wars Libri e Comics, salve! Salve, salve Matioschi, salve poi al prossimo ospite, che lascio a te ovviamente l'onore di presentare, salve a tutta la chat, oggi siamo qui a commentare un po' la formazione del governo Draghi e Palpatine, naturalmente, e insomma le notizie sportive della giornata. Assolutamente, abbiamo Robi Rani, benvenuto! Buongiorno, buongiorno Mattia, buongiorno Giovanni, buongiorno alla caldissima chat, è un piacerissimo, oggi ci divertiamo tantissimo, oggi sarà super divertente! Credo proprio di sì, più tardi ci raggiungerà il buon Emilio, The Unbounce e Victor ormai una presenza, è la vera minaccia fantasma della rubrica, lui dice di esserci, poi non c'è mai, prima o poi forse, entrerà in campo. Prima o poi ci manderà una misteriosa trasmissione, una minaccia di vendetta. Esatto, dunque la classica domanda per rompere il ghiaccio, cominciamo da Giovanni, prima visione del film, le impressioni dell'epoca sono cambiate, sono rimaste le stesse, comunque un film del 99, mi sento vecchio, prego. Allora, appunto perché è un film del 99, non l'ho visto al cinema, come dicevo anche prima, pre-live, ero troppo piccolo, sono andato al cinema per la prima volta due anni dopo, sono andato al cinema per la prima volta due anni dopo, a vedere addirittura Harry Potter e la pietra filosofata. Comunque, l'ho visto per la prima volta in televisione, tra l'altro sono sicuro, questo me lo ricordo bene, ho cominciato la visione in ritardo, cioè il film era già cominciato da un po', mi sono perso i primi, non so, 15, 20, 30 minuti, giù di lì, e ricordo benissimo, il primo ricordo che ho di questo film è Jar Jar Binks, che mi era piaciuto un sacco però, perché avevo sui, penso, sei anni, io avevo la televisione in camera, quindi guardavo tutto su Italia 1, sempre, ecco, e mi ricordo Jar Jar Binks, ho proprio l'immagine della scena prima che, forse quando si tuffano nella città, per andare nella città sommersa, non lo so, una di quelle scene lì, comunque con Jar Jar Binks e Qui-Gon che lo guarda con fare un po' stranito, e mi sono reso conto che quel film fosse Star Wars in ritardo, quando ho visto poi accendere la spada laser, prima non l'avevo capito, e questo è un, insomma, un... È un elemento significativo. È un elemento, sì, molto significativo, esatto, esattamente. Perché avevi già visto i precedenti? Allora, adesso se l'avessi già visto, può essere, sicuramente già avevo idea, insomma, di Darth Vader, spade laser, eccetera, quello sì, e mi sono poi appunto accorto solo dalle spade laser, perché quello era Star Wars, perché non vedendo il titolo, avendo cominciato la visione in ritardo, non capivo che film fosse. Opinioni positive, quindi, lì per lì? Ma sì, positive all'epoca, ma alla fine, dai, non sono mai diventate così negative, no? Nel senso, è un film che ha un sacco di difetti e va bene, ne parleremo per due ore, però, tutto sommato, ci siamo affezionati, no? Quindi... Sì, sì, dai, tutto sommato. Roby, stessa domanda. Credo prima visione in sala. Ma assolutamente, sì. Giovanni aveva tre anni, io ne avevo 25, per cui, insomma, sono legatissimo in episodio 1, parto subito a livello positivo, è uno dei, probabilmente, l'episodio, al di là della teologia classica, che, come dicevamo, è un'unica realtà nel mio mondo, episodio 1 è forse il film a cui sono più legato, perché è stato il mio. Amavo Star Wars prima, quando, insomma, quando è saltata fuori la notizia, no internet, era tutta un'altra roba, era veramente, avevo, lì ho scoperto il termine hype, cioè ero proprio esploso, anche perché negli anni, avendo un po' messo in secondo luogo, in quel periodo suonavo, facevo musica, per cui ragazze, musica, tutti interessi che erano molto lontani da quello che è il mondo nerd, se vogliamo, da un certo punto di vista, mi ero accorto, la prendo un po' da lontano, che anche in quel mondo hardcore, punk, skate, snowboard, quel mondo un po' estremo al tempo, cosa che adesso non lo è più, Star Wars era presentissimo, grafiche, dischi, frasi nei dischi, nei pezzi hardcore, intro, cioè mi rendevo conto, è lì che ho cominciato a rendere conto di quanto fosse potente Star Wars nella cultura generale, per cui ho detto, cavo, figata, io sono cresciuto con Star Wars, mi piace, anche qui ci trovo Star Wars, per cui figo, faccio parte di questo movimento, di questa cultura, di questo fandom, che per me stava nascendo, era gli albori, per cui il lancio di Episodio 1 fu un enorme, questa è roba mia, me lo prendo, vai, lo voglio vivere al massimo, avrei potuto scegliere un altro film, ma va bene. Intanto, attenzione, sorpresa, abbiamo Victor, benvenuto, l'abbiamo evocata, ed è arrivato, salve. Scusatemi, poi dopo dovrò scappare per una call, purtroppo sono settimane. E' una presenza, è la minaccia fantasma. Chiedo infinitamente scusa per la mia presenza discontinua, ma purtroppo il lavoro è il lavoro. Salve a tutti. Qualcuno dovrà pur farlo, proseguiamo. Per cui, per cui l'ho presa molto sul personale, ho cominciato a collezionare in quel periodo lì, le prime cosine, poche poche, perché insomma, i stipendi erano quelli che erano, non potevo permettermi praticamente nulla, e registrai, da qualche parte, devo ancora avere la videocassetta col trailer registrato quando lo presentarono al TG5, insomma, era in una fotta totale ed ero esaltatissimo. E andammo a Forlì, al Cinema Arcadia, a Storia, non ricordo più a Storia, credo, a una trentina di chilometri da casa mia, a mezzanotte e cinque, c'era l'anteprima notturna. Non ricordo di un bambino, solo gente della mia età, dai venticinque, ai trenta, ai trentacinque e oltre, sala piena agrimita, che manco allo stadio, fu una cosa meravigliosa, la prima parte. Ricordo bene quando è apparso il titolo e il crawler, cioè proprio urlo a stadio incomprensibili ed era la prima volta che vivevo questa cosa, per cui fu un imprinting pazzesco. Durante il film, più volte successero questi boati, ricordo benissimo quando Qui-Gon presenta il giovane Anakin a Obi-Wan, che è Anakin, lui è Obi-Wan Kenobi, disastro in platea. Ricordo l'hype durante la corsa degli sgusci, momento altissimo secondo me della saga, e ricordo soprattutto il silenzio a fine film. È una roba che non dimenticherò mai. Sala ammutolita, tutti si sono alzati, sono usciti, ci si guardava tra sconosciuti, tra amici, tra tutti, e ci si chiedeva ma cosa abbiamo visto? Cos'è? Ok, adesso no, c'è anche nel bellissimo documentario People vs George Lucas che tutti dicono ma no, dovremmo rivedere un'altra volta per capirlo, no? Ed era uguale, se recuperate People vs George Lucas le stesse identiche cose. Per cui da lì, uno, due, tre, quattro, cinque, alla fine la voglia di godere Star Wars ti impone di vederlo più volte e effettivamente alla fine ci diciamo Jar Jar, che era la cosa più assurda possibile, ma non solo, anche Ben Quadrinaros, ricordo che proprio mi cascarano i maroni e adesso Anakin Skywalker dove è Darth Vader? Dov'è quella roba lì? Dov'è? Non la trovavo quella roba lì. Per cui alla fine mi è comunque rimasto nel cuore anche perché trovo comunque che ci siano dei momenti altissimi di Darth Maul, la gara degli sgusci, il combattimento tra Obi-Wan e Darth Maul, ci sono tantissime cose bellissime, la colonna sonora memorabile secondo me inarrivabile sotto un tipo di vista e purtroppo è anche quello con i più grossi what the fuck di tutta la saga poi recuperati nel secondo a discapito di altro. Ecco, questo è il mio ricordo molto fresco e molto vivido nella mia mente. Bene, Sir Victor, la domanda che ho posto è prima visione, ricordi della prima visione, impressioni dell'epoca, impressioni adesso. Perché magari ci sono stati dei cambiamenti. Ricordo che allora io ho avuto la fortuna di vedere tutti i film di Star Wars in sala, perché era il periodo viaggiando nel tempo. No, 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 perché era il periodo in cui mandavano in sala il prima di Special Edition. Esatto, avevano mandato in sala le Special Edition, quindi non avevo mai visto questa mero piccola, avevano avuto dagli 8 ai 10 anni mandarono in sala le Special Edition, quindi io ero particolarmente fomentato. Però ero anche un ragazzino e quella sera lì la scelta era tra Austin Powers, la spia che ci provava e La Minaccia Fantasma. Fortunatamente La Minaccia Fantasma perché era un cinema multis... No, era un cinema a Burgumanero che a 20 minuti... No, un quarto d'ora a casa mia che è praticamente era un tre sale, ok? Non è che era un multisale, era un cinema locale con tre sale, però non è multisale da 12 sale che ci sono adesso e poi c'era quello della... quello sotto casa mia che era proprio quando facevo nei film sentivo dal balcone l'audio per intenderci, era proprio attraversavo la strada e era al cinema e allora anche per comodità e un po' perché comunque volevo andare a vederlo sono andato a vedere quello e ricordo che nonostante fossi un bambino trovai Jar Jar insopportabile non sapevo dire perché ma continuai e poi mi feci due palle così ma perché giustamente il problema grosso di episodio 1 La minaccia fantasma è che è un film che voleva essere politico e ci può anche stare io questa cosa la posso anche capire cioè è anche affascinante dopo tre film in cui vedi le battaglie nello spazio battaglie in generale tante cose belle simpatiche mettere anche qualcosa di leggermente adulto il problema è che l'ha fatto in modo sbagliato cioè tu non puoi per fare un film politico farmi vedere effettivamente le sedute in senato come se fossessi guardando senato tv su youtube cioè non esiste una roba del genere cioè erano scene interminabili di questi che parlavano di leggi e comma di cui un bambino non capisce un cazzo poi entreremo nel dettaglio quindi ti eri rotto le balle mi ero rotto le balle ma allo stesso tempo ero rimasto anche stravigliato da un paio di scene la battaglia di Naboo che poi col senno cioè col senno di poi arriva ad odiare mi piacque molto all'epoca la corsa con gli sgusci anche se secondo me è totalmente recontestualizzata ed era di base un modo per vendere il videogioco perché era un trailer del videogioco ok e va benissimo così e poi il combattimento A3 il triello alla fine è qualcosa di semplicemente spettacolare per quanto Darth Maul è incredibile perché nel film aveva la stessa caratterizzazione di questa bottiglia però era tanto poco caratterizzato quanto era spettacolare aveva una presenza incredibile quindi con You Love The Fate in so delle più memorabili della storia del cinema ancora oggi viene citata la musica come ha detto Robby la corona sonora è qualcosa di straordinario il problema è come sono cioè tra queste scene ci dovrebbe essere un collante un qualcosa che fluidifichi il film e non c'è manca il problema è quello senza contare che io anche se ero un bambino quando Quegon nominò e mi dicono e mi pensai ma quando abbiamo parlato di MidiClorian io li continuavo a dire ma cosa sono io ho detto ho perso un pezzo sì perché è una cosa importante cioè sta già stocciolando tutti i problemi Victor no vabbè però a livello di prima visione io mi ricordo che gira verso me e ho detto ma cosa sono i MidiClorian e ho detto il mio amico ovviamente eravamo bambini per non fare la figura di merda perché non lo sapeva ma voleva fare quello che sapeva intanto sto già leggendo di Paragon in chat io oggi mi farò odiare ragazzi ve lo anticipo però il mio amico disse ma sì non ti ricordi ne avevano già parlato ovviamente non era vero però non voleva ammettere che effettivamente non stava capendo neanche lui e c'era in sala la gente che vorbottava perché quando al momento di MidiClorian tu dici che cazzo sono queste MidiClorian quindi è un film che il suo segno era lasciato però non posso dire di essere rimasto soddisfatto cioè io arrivavo da una visione più o meno fresca di qualcos'altro e non dico che poi ero un bambino non è che potevo pensare sì però non è proprio la stessa cosa un bambino legge Star Wars ha visto i film di Star Wars si aspetta Star Wars molto semplicemente insomma concordo più o meno stessa esperienza tra l'altro anche in quel caso fumetto della minaccia fantasma pubblicato dal giornalino anche tu grandissimo prima dell'arrivo del film nelle sale per farvi capire l'allarme spoiler dell'epoca me l'ero letto tutto prima di vedere il film quindi sapevo già cosa avrei visto in sala tu pensa io ero abbonato no io ogni domenica me lo compravo ogni mercoledì me lo trovavo arrotolato nella cassata che meraviglia che meraviglia quindi sapevo già tutta la trama visto con dei miei amici degli elementari e abbastanza apprezzato perché comunque 11 anni il primo Star Wars al cinema c'erano delle scene accattivanti la corsa degli sgusci il duello finale poi con il passare dell'età e con l'arrivo dell'anzianità l'ho rivalutato nettamente in negativo quindi oggi sarò la parte lesa spietato sì perché ho assistito negli ultimi anni una rivalutazione dei prequel io invece sono per la svalutazione sono dei film brutti che hanno il valore di essere ambientati nella galassia di Star Wars quindi di fare riferimento comunque a un immaginario accattivante piacevole Lucas le scene action di solito le imbrocca il suo problema a livello registico un altro però secondo me non è un bel film e poi però adesso ovviamente ci scambieremo opinioni a riguardo diciamo che secondo me questo è un problema di tutti i prequel non so bene il motivo ma Lucas i suoi collaboratori a mio avviso hanno raccontato il periodo più interessante della galassia nel modo più noioso possibile perché quando guardavamo la vecchia trilogia e ci raccontavano Anakin allievo di Obi-Wan poi l'ha tradito la guerra dei quoti perché per noi all'epoca si chiamava così chissà credo non ci saremmo mai aspettati questa cosa qui la tassazione delle rotte commerciali il voto di sfiducia a Valorum Anakin Bambino non credo e l'ordine dei Jedi paragonabile a un ordine monastico di fissati con le regole non ci si può accoppiare boh secondo me è una cosa un attimino che stranisce se cerco di calarmi è il tempo dell'uscita perché adesso tanti lo danno come una cosa scontata un dato di fatto c'è chi è nato addirittura con questi film e quindi i Jedi sono sempre stati così ma come vi facevo notare settimana scorsa il vestiario dei cavalieri Jedi non ha il minimo senso cioè già solo partire da lì è divertente perché hanno preso l'abito di Obi-Wan su Tatooine che era un abito contestualizzato era su un pianeta desertico si copriva come i Tuareg sul pianeta Terra è diventato l'abito ufficiale dei Jedi perché? che poi se gli metti un mantello marrone anche Luke più o meno di Episodio 4 più o meno è già vestito da Jedi quasi mentre il ritorno dello Jedi tecnicamente vedevamo il vestito cioè Luke era vestito da Jedi nero che forse straniva un po' Owen Lars è il vestito esattamente uguale si è un Jedi Owen Lars l'hanno fatto per dargli continuità l'idea era quella di dargli continuità è una cosa abbastanza a fare poi dopo anche per farvi capire come le cose cambino intanto super chat i prequel rispetto ad Anakin sono didascalici per ciò che dice Ben in episodio 6 Quai e Obi avrebbero meritato uno spin off i Midi Cosi per me vanno bene ma il punto è che non è che i Midi Clorian non vadano bene cioè i Midi Cosi vanno anche bene il problema allora è un po' quello che io ho riscontrato in Wonder Woman ok Wonder Woman 84 non è che si fanno spoiler però è una cosa che vedete anche nel trailer questa vola a me sta benissimo che questa voli ma mi spieghi perché nel presente non vola più per me il problema dei Midi Clorian è un altro visto che ormai abbiamo aperto l'argomento parliamo di Midi Clorian secondo me il problema dei Midi Clorian è che è una cosa allora sono dei microorganismi che aumentano e migliorano la percezione della forza perché sono essi stessi parte della forza va benissimo però capisci che è una roba leggerissimamente importante e questo film è ambientato prima della trilogia originale per me non è neanche questo il problema a mio avviso l'oggetto del dissentire è la forza è passata da una natura mistica a una natura parascientifica però no perché in realtà i Midi Clorian non sono la forza i Midi Clorian sono insimbiosi con la forza ho capito è un'altra cosa abbiamo quasi i livelli di combattimento di Dragon Ball arrivati a questo punto c'è chi ha più Midi Clorian dell'altro quello lì è il prescelto perché ha più Midi Clorian del maestro Yoda non diede fastidio questa cosa dei Midi Clorian però esattamente come te provai una sorta di ah ok mi hanno spiegato che ci sono questi batteri all'interno del sangue che vivono con la forza hanno voluto no come si dice scientificare la forza e secondo me non sono tessuti forse proprio per quello perché dalla cosa mistica che crea fashion ah ok perfetto quando in realtà a livello tecnico come dice Mattia è una conseguenza per cui la parte mistica loro sono come attirati dalla forza e quindi determinano quanta forza hai dentro di te ma non sono la forza cioè la spiegazione che danno è quella sono come le luce sono come le come le falene attirate dalla luce non sono esse stesse la luce sono un qualcosa che poi io vi dico che forse perché appunto avevo undici anni non è una cosa che mi abbia mai dato particolarmente fastidio nel mio head canon è sempre entrata però capisco chi si è lamentato e le varie polemiche derivate io leggo ad esempio il mistico una supercazzola se maltrattata a me non pareva per niente una supercazzola nella vecchia trilogia siamo andati avanti i trent'anni sapendo che la forza era un legame mistico che collegava le persone e i Jedi riuscivano a sfruttarla a proprio vantaggio sollevando oggetti percependo sentimenti e pensieri attraverso lo spazio non c'era bisogno secondo me di mettersi lì col bignamino ci sono i midi-chlorian e quello lì ne ha più dell'altro era un modo come ho letto in chat forse per spiegare in maniera immediata perché Anaki nel prescelvo è quello che ne ha di più esatto anche se forse l'avrebbero potuto spiegare anche in un modo molto più semplice secondo me che ne so vedi appunto Qui-Gon che percepisce dice incredibile non ho mai sentito una concentrazione di forza così in un individuo vai davanti al consiglio e loro che rimangono stupiti stupefatti perché percepiscono appunto che Anakin questo bambino è potentissimo ha una concentrazione di forza in sé assurda poteva anche andar bene così però insomma in Mandalorian secondo me l'hanno retconizzato in maniera in maniera ottima trasformandolo nel valore M per cui diventa veramente un valore del sangue che insomma l'hanno rettificato nel modo giusto nel contesto in realtà ci sta anche secondo me ritornando a un'ottica più generale questo è un film dove Lucas ha detenuto il controllo in tutte le fasi della creazione e per molti anche perché gli altri l'hanno sfanculato proprio per dirla molto è così un sacco di gente che ha lavorato alla trilogia originale non è voluta tornare perché lui allora o non li menzionava nei titoli di coda veramente ci sono tutte o non so comunque non li aveva adesso non mi ricordo se c'erano anche problemi di compensi comunque li aveva maltrattati tutti a parte che ha anche un caratteraccio a quanto pare comunque li aveva maltrattati tutti un sacco di gente non è ha detto ok io non torno te lo fai da solo se l'è fatto da solo difatti e forse il problema sta proprio lì perché se guardate dietro le quinte ce ne sono tantissimi nei DVD nei Blu-ray voi vedete proprio lui che entra in una sala tutti zitti in silenzio ci dica o fate il supremo lui dice le sue cosine gli altri sì 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 erano un po' yes man ma soprattutto vi invito a cercare su YouTube le reazioni di Lucas e di suoi collaboratori dopo aver assistito al primo screening del film con un montaggio preliminare ovviamente test screening nel privato immagino dello Skywalker Ranch erano distrutti psicologicamente con un Lucas che timidamente diceva forse in alcuni punti un po' esagerato c'è uno dei produttori così quindi loro stessi furono i primi un po' smarriti davanti alle immagini vi assicuro che questo video esiste cercatelo su YouTube e comunque negli extra ce l'hanno infilato anche negli extra dei DVD dei Blu-ray da quel punto di vista non hanno nascosto nulla c'è da ammetterlo poi tanti accusano Lucas di essere un regista non proprio capace io l'ho già detto un po' prima secondo me dal punto di vista della spettacolarità soprattutto degli effetti perché questo film proponeva degli effetti visivi all'epoca assolutamente all'avanguardia e che comunque sono invecchiati anche abbastanza bene al giorno d'oggi qualcuno ormai al segno del tempo però se pensiamo nel 99 il Bulbe è ancora spettacolare sì sì ripeto pensiamo con film del 99 ci sono altri che sono invecchiati tantissimo invece la minaccia fantasma regge non è più o meno contemporaneo il The Rock Re Scorpione sì dobbiamo pensare secondo me che gli effetti della minaccia fantasma sono invecchiati meglio rispetto a quelli di episodio 2 secondo me anche poi settimana prossima vedrò il problema del 2 è micidiale nel episodio 2 ci sono certe robe le zecche rovinano completamente il film infatti secondo me per molti episodio 2 è brutto solo per quella zecca con un Anakin che si muove è stranissimo ci arriveremo quindi sicuramente dal punto di vista spettacolare capace la scena degli sgusci il duello finale anzi triello assolutamente però per me qui Luca stoppa in quello che è il suo tallone d'Achille storico quindi la gestione degli attori non solo in italiano ma anche in originale sono tutti piattissimi e comunque abbiamo Liam Neeson Johan McGregor Samuel L. Jackson Natalie Portman cioè sarebbe un cast che dovrebbe farci strabuzzare gli occhi per la qualità degli interpreti coinvolti e invece c'è un piattume ma soprattutto in originale e non solo e c'è un altro enorme difetto secondo me che come al solito secondo me George Lucas io spero di incontrarlo un giorno e potergli dire quello che penso se ne è sbattuto letteralmente della trilogia classica cioè se ne è fregato altamente di quello che aveva reso la trilogia classica quello che era già è quello cioè il design di tutte le astronavi e di tutto era anni luce con quello che abbiamo visto aveva un senso cronologico perché lui voleva far vedere questa questo Repubblica in Art Deco un po' anni 50 americana rivisitata fantascientifica con gli N1 mezzi cromati con queste linee sinuose e via dicendo apprezzabile molto più Flash Gordon però cioè non c'era un veicolo al di là dell'N1 secondo me che alla fine ti piace anche perché diventa un po' iconico se vogliamo se vogliamo tutto il resto è proprio esteticamente brutto cioè tutti i veicoli sono brutti i trasporti truppe che sembrano questi cammelli marroni i tanti quelli sono orribili secondo me sono tutti brutti gli stop le speeder bike dei battle droid è veramente il bongo ma che cos'è il bongo è una roba a livello io avevo un bagno schiuma credo a forma di bongo ufficiale merchandise ufficiale preso credo da mia mamma per farmi contento bello gli sgusci bellissima l'idea degli sgusci è bellissima forse sono i veicoli che si salvano un po' di più sono rimasti però come diceva Mattia tutto episodio 1 è un enorme catalogo per la vendita del merchandise dei videogiochi delle figurine del sborante mila cose che hanno fatto uscire per la promozione del film perché è quello che aveva già cominciato a fare con il ritorno dello Jedi e qui boom ha messo la quinta disastro secondo me e si è concentrato forse più su quello che sulla sulla qualità della scrittura della direzione dei personaggi e dei personaggi stessi concordo poi è tutto molto più freddo perché alla fine vediamo una serie di green screen accattivanti su cui si muovono gli attori se ci fate caso in tantissime scene di gruppo sono disposti in cerchio come se Lucas non conoscesse altro modo per far parlare i propri personaggi e anche poi leggo l'altra super chat anche le scene di combattimento che ripeto dal punto di vista spettacolare sono ovviamente molte miglia avanti rispetto ai combattimenti della vecchia trilogia secondo me sono molto più anestetizzati ci sono quasi dei ballettini ormai coreografati anche quando muore Qui-Gon Obi-Wan non è che reagisca si rimette a fare le coreografie è un po' strano c'è tutto un po' strano poi so che invece ci sono dei grandissimi appassionati di quello stile di combattimento che comunque ripeto è veramente spettacolare però secondo me è proprio diverso nel mood nel tono intanto mi è passato Giovanni un pezzo di merchandise che vi mostro che rientrerà nei miei incubi ve lo faccio vedere proprio per arricchire questa diretta con cose bellissime cos'era un calippo cos'è questa roba disgustosa ma io quello me lo ricordo mamma mia che schifo dovrebbe essere un calippo qualcosa del genere che schifo ma è inquietante con un sacco di dopo me la ricordo quella roba lì molto inquietante molto fraintendibile poi non lo so adesso guardo dieci ore di film su Jar Jar che tiene un discorso assurdo in senato si levano dalla faccia della terra altri tre film a caso no magari levano tre film belli questo patto io non l'accetto e io odio Jar Jar no ragazzi il senato ci arriveremo ci arriveremo ecco ad esempio in episodio 4 erano due anziani che sbatacchiavano due bastoncini posso dire che secondo me a livello di impatto c'è molto più sentimento nei due anziani che muovono i bastoncini c'è molta più gravitas per usare questo termine è una competizione impietosa cioè sono due cose talmente diverse due anni talmente diversi al di sotto della coreografia ma poi dipende dal contesto sì certo però al di sotto della coreografia nel triello B1 quei Gondart Mall cosa c'è? quali sentimenti? non si conoscono neanche i personaggi non si sono mai parlati non si sono mai affrontati non c'è un pregresso su Tatooine però per due secondi non è la resa dei conti come invece in quel caso lì che dice Obi-Wan ci rincontriamo finalmente poi vabbè scopriremo che si sono incontrati nel frattempo ma questo è un altro paio di maniche esatto tutto sommato forse è uno dei retton che posso accettare ma adesso tornando sì tornando in in topic comunque è proprio il contesto che cambia perché ok va bene che lì il duello appunto l'hai detto è epico bellissimo però addirittura a volte sembra forse artefatto per quanto è coreografato forse il due è troppo coreografato sì intanto sto leggendo è freddissimo è privo di significato il duello tra Vader e Obi-Wan certo certo no dai ragazzi non diciamo fesserie cioè va bene avere le proprie preferenze perché le proprie preferenze parliamo di episodio 3 no no episodio 4 ho capito cioè se il discorso è prettamente tecnico spettacolare non c'è nulla da dire cioè vederti che sono impazzati alle Guinness che si muove perché è una persona di una certa età non è cioè non è complessibile questa cosa cioè nel senso va bene tecnicamente va bene ma ragazzi nelle prime scene Obi-Wan dice a Luke Vader ha ucciso tuo padre e lì stare incontrando Vader che gli dice finalmente ci rincontriamo cioè è anche il primo duello con le spade laser nella storia del cinema cioè che paragone è adesso ma poi scusate cioè io ho visto gente che dice è un duello insensato perché quando colpisce Obi-Wan non gli va a fuoco la tunica beh questa è un'ottima obiezione sì ho capito sto scherzando sto scherzando no no però è un film del 77 mi correggo opinioni personali assolutamente legittime però esiste anche una componente oggettiva nel cinema a livello di grammatica non basta il background dei personaggi rendere godibile un duello nel triello non c'è alcun background che background c'è? non c'è niente se vogliamo stare a guardare quel duello a livello proprio di motivazione è semplicemente un salvarsi la vita perché questo li vuole ammazzare ma non c'è assolutamente cioè ha molto più background se vogliamo il duello tra Obi-Wan e Kenobi di episodio 4 perché i due sappiamo già da quel film che si erano incontrati in precedenza che avevano avuto dei trascorsi piuttosto che questi due che combattono con uno che non sanno neanche chi è che semplicemente li vuole ammazzare ma poi quando è telefonato il duello nel senso che si apre la porta lì dell'hangar cioè Maul rimane fermo finché non se ne vanno finché Padme e gli altri non se ne vanno perché aspetta aspetta che arrivino i Jedi a combatterlo e la roba è estremamente pesa lo ripeto ancora una volta cioè proprio a livello anche tra virgolette di plausibilità per quanto se ne possa parlare in Star Wars questo ti ha appena ucciso il maestro dici no e subito dopo ricominciamo con i ballettini tic 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 ma tu vai lì e gliela sbatti sulla testa cioè tipo Luke con Vader c'è un minimo di ecco ecco manca secondo me in questo film pathos manca emotività sì non c'è un personaggio che si arrabbia neanche a pagarlo in quel combattimento sì sì esatto meno male che c'è quella colonna sonora tutta quella scena lì è memorabile ma a come inquadrettiamo Vader e Obi-Wan nel 77 e qui siamo alla fine degli anni 90 periodo molto marro film tamarrone dove si provano gli effetti speciali in maniera massiva e dove lo spettacolo è fondamentale perché poi venivano da una trilogia in cui la spettacolarità era lasciata agli scontri con le astronavi più che i combattimenti con le spade laser qui volevano alzare il livello per cui era volutamente spettacolare in Revenge of the Sith per me è terribile io quando vedo Anakin e Obi-Wan che combattono per 20 minuti ci arriveremo anche lì la vergen di Madonna che sarebbe stato fantastico cioè proprio no però però è piaciuto perché è spettacolare e fa parte di quello che lui voleva bellissimo quando Qui-Gon si mette a meditare con le barriere chiuse mentre Maul guarda la barriera come se fosse una tiga in ferocita sono belle scene no però dietro c'è tu sei cattivo io sono buono ti faccio il culo buona prende un po' di verbo quando tra l'altro Casuola evidentemente l'hanno fatto apposta per farti odiare un po' di più Maul perché fino a quel punto lì Maul stesso si voleva vendicare degli Jedi per cui era cattivo fino a un certo punto uccide Qui-Gon senza pietà con la sua risata dai denti marci e dopo lì Obi-Wan si incazza e via di nuovo con le solape pacconi esteticamente bellissimo ma sicuramente molto posticcio molto coreografato come i tempi richiedevano abbiamo una super chat un po' complicata nel senso che ci porta un po' fuori strada cercheremo di rispondere velocemente perché in episodio 4 Obi-Wan scompare ma Qui-Gon no il tutto è trattato più che altro nell'universo espano perché normalmente Qui-Gon dopo la morte scopre il modo attraverso il quale i suoi successori quindi uno Obi-Wan uno Yoda potranno diventare un tutt'uno con la forza quindi non era una capacità insita in tutti i Jedi soprattutto in quel periodo di oscurità ma è un insegnamento che Qui-Gon riscopre dopo il trapasso in realtà in realtà lo scopre prima ma non completa l'addestramento di conseguenza non avendo ancora padroneggiato appieno la tecnica riesce a mantenere la propria individualità senza divenire senza scomparire diciamo nella forza ma non riesce a manifestarsi visibilmente e il suo corpo non scompare io al tempo l'avevo letta anche in maniera diversa perché in realtà le tre morti in cui li vediamo scomparire i nostri eroi che ci mettiamo anche Luke Skywalker in episodio 8 sono morti cercate Obi-Wan prima di essere ucciso da Vader fa così con la spada avevo pensato la stessa cosa io avevo pensato quando vogliono morire spariscono ma se lo trafiggi mentre sta combattendo non hai il tempo di è anche così viene detto anche così che sia Obi-Wan sia Luke ma anche Yoda poi in effetti viene detto di tutti e tre mi sa tra fumetti romanzi eccetera che proprio loro si lasciano andare perché capiscono che quello è il momento di unirsi alla forza ecco e di conseguenza lasciandosi andare scompaiono sì sì dunque perché durante la guerra dei cloni a Geonosis non ce n'è uno che scompaia per cui no no ma quello perché nessuno aveva preso quella quella tecnica però sì c'è un po' la doppia spiegazione come la forza come campo mistico e Midi-Clorian come parte scientifica esatto qui hai una spiegazione molto più psicologica diciamo molto più legata un po' anche poetica volendo e poi quella proprio tecnica che spesso non è neanche così necessaria secondo me bastava anche solo appunto nel momento in cui sei in pace in equilibrio con la forza eccetera scompari piccola provocazione che voglio lanciare poi ritorno al mio listone della spesa non c'era conflitto tra i personaggi ci dicono in chat ma c'era tra l'ideologia Jedi e Sith vendetta verso i Jedi io vi chiedo molto francamente qual è l'ideologia Sith in questo film cosa vogliono? Boh cioè nel punto più che altro in generale vi chiedo i cattivi cosa vogliono cioè anche la federazione dei mercanti da Sidious cosa otterrà di preciso perché alcuni potrebbero dire hanno il patto se riescono a portare a termine il piano Sidious gli garantisce dei vantaggi nel senato ma se così fosse allora Sidious si smaschererebbe e renderebbe palese la sua influenza sul senato quindi nei moediani capire cioè è veramente un ma in realtà la rende palese perché dice ho fatto impaniare bellissimo termine tra l'altro il senato nelle procedure come fanno a non capire che li vabbè quello poi ma soprattutto a me fanno il coperto fin qua esatto loro si fidano ma loro si fidano di un tizio incappucciato che mostra la faccia e parla tutto così cioè si mostra solo tra l'altro mancano un po' di motivazioni cioè veramente i Sith qui cosa vogliono? chi sono? lì è ancora fin perché Amol dice vendetta ci vendicheremo ma di che cosa? esatto tutto questo fanno capire fanno capire che sono ai margini della forza che i Jedi li combattono però appunto poi soprattutto per un bambino perché comunque noi eravamo bambini all'epoca comunque eravamo piccoli per un bambino è difficilissima da seguire la storia perché effettivamente già per un adulto arrivano le domande del tipo come ha detto Mattia ma quindi questi cosa vogliono e soprattutto da questo blocco del commercio mamma mia il blocco del commercio è una cosa importante ok per la galassia però effettivamente i mercanti cosa ne guadagnano esattamente non si è capito poi quei personaggi se li portano dietro quei due personaggi fino al terzo film che vengono seccati male quindi in tutto questo in tre film non si è minimamente capito che vantaggio avrebbero avuto loro cioè lo facevano perché erano mercanti si erano stati attratti a qualcosa non erano dei sit cioè io arrivo da te ti faccio un'offerta che non puoi rifiutare tu mi fai quello che ti ho chiesto ma perché cos'è questa offerta non si è mai parlato di niente però sì nel senso sicuramente io ad esempio quando poi l'ho rivisto perché prima dicevo che l'ho vista bambino quindi tante domande non me sono poste ovviamente ovvio poi quando l'ho rivisto a me all'epoca bastava ok sono i cattivi quello lì è pitturato ok cattivo esattamente poi vabbè chiaramente riguardandolo in tempi più recenti mi sono detto ebbè i sit vogliono il dominio della galassia e va bene evidentemente hanno promesso ai mercanti di spartirsi il potere eccetera poi tanto anche lì io dico cioè i mercanti sanno che questi sono sit no e non hanno il timore di che sì no ma lo sanno perché dice ah ce ne sono o meglio sanno che sono dei signori non mi pare che i mercanti dicano proprio sit però in ogni caso sono sparito per un attimo no no noi ti vediamo ti vediamo ma perché invece voi siete spariti per un attimo ok se sei zompato per un millisecondo ok no niente io invece vi ho persi per un paio di secondi comunque dico hai questi signori oscuri ma non hai il dubbio che ti vogliono fottere beh questo è un po' un uno stereotipo l'alleanza improbabile contro questo sarà sicuramente una persona fidata invece poi tazang quindi sì ma poi in generale e poi forse questo poi è il fulcro di tutta la perplessità che magari ci ha raccontato anche Roby dopo il termine del film durante la prima visione è il tono che è completamente diverso rispetto a quello della vecchia trilogia completamente ma anche dal punto di vista estetico come abbiamo già segnalato della gestione della storia non c'è più un riferimento ai serial paradossalmente vengono meno i topoi narrativi ricorrenti la parabola dell'eroe la fiaba viene meno tutto questo per una ricerca della complessità della seriosità e anche un po' della magniloquenza che sotto un certo punto di vista può essere una cosa coraggiosa e interessante non lo metto in dubbio però secondo me da un lato c'era appunto questa intenzione di rendere la cosa più matura più seria dall'altro lato la volontà di vendere più biglietti possibili e di vendere un sacco di giocattoli quindi c'è Jar Jar quindi c'è il bambino Anakin bambino e dall'altra parte le sedute in senato ci sono proprio secondo me due anime che cozzano e secondo me è anche interessante la rilettura di Giovanni anzi il suo ricordo non pensavo fosse Star Wars però è così e va bene che passano canonicamente 30 anni giusto poi tra la vendetta di Sith tra episodio 1 ed episodio 4 sono 32 anni ok però cambia veramente tutto ma tutto e secondo me c'è questo disorientamento non c'è una continuità estetica e di narrazione in questa saga c'è da dire che io anche lì mi ero sempre dato la spiegazione poi sempre quando ho rivisto i film poi al liceo eccetera mi sono sempre dato la spiegazione che la nascita dell'impero avesse portato un po' a un medioevo tecnologico diciamo che anche quello è un topos narrativo è la spiegazione che ci siamo dati un po' tutti eh sì sì certo certo però sì alla fine penso che comunque l'obiettivo appunto di Lucas fosse ah ti mostro la galassia in un periodo di relativo splendore quello splendore che tende alla decadenza e poi ti mostro cosa succede dopo quando appunto arriva arriva l'impero brutto e cattivo quindi tanto ci segnalano immagino sia un video comico che riassume la trilogia prequel sì storico storico esatto ringrazio Davide Morando e poi vi faccio un'altra domanda chi è il protagonista di questo film Jar Jar è bella eh Jar Jar perché praticamente Anakin però io ho sempre visto più Obi-Wan secondo me formalmente è Qui-Gon Qui-Gon anche secondo me è più Obi-Wan non so perché ma Obi-Wan non c'è in questo film Victor Obi-Wan in questo film non esiste non esiste Obi-Wan in questo film è una comparsa non fa niente solo alla fine vince contro Omol rimane addirittura alla nave sì quando c'è tutta la situazione su Tatooine stai lì alla nave diciamo che si è l'ultima missione di Qui-Gon questo per me è un altro problema forse il protagonista è Qui-Gon Liam Neeson sempre al centro della scena ma non ha un'evoluzione psicologica non ha un'impresa cioè l'unico oggetto del contendere è Anakin lui lo vuole addestrare il consiglio gli dice no però è tranquillo tutto il film è sempre in controllo della situazione non c'è mai un momento in cui rischi di fallire tutto alla fine muore certo ma un personaggio monolitico anche un po' difficile è affascinante è un personaggio maturo quindi è già fatto e finito per è determinato per la sua idea è un vecchio stregone che è un po' forse ricorda vagamente il gioco di Wan però da un certo punto di vista è più convinto è più legato a un'ideologia Jedi che non corrisponde alla a quella effettiva di Jedi è un po' più quello che noi è un po' la vecchia trilogia se vogliamo Qui-Gon è l'incarnazione di quello che noi avremmo voluto mi piace ha deciso di non darci e io questa cosa qui la cosa principale della prequel che si vede palesemente in episodio 1 sembra che ci sia questa sorta di odio tra virgolette forse inconsapevole sicuramente inconsapevole verso tutto il fandom che una sua creatura ha creato cioè non ci hai tolto gli X-Wing ci hai tolto i Tai e ci hai messo un sit fighissimo che nonostante sia piatto alla fine hai fatto in modo che piacesse a tutti e lo secchi lo secchi in una maniera talmente assurda che ricordo come se fosse oggi che nel trailer di episodio 2 c'è una scena in cui Anakin taglia un Tusken Raider di schiena il Tusken ha i vari pirurini dalla testa e in ombra c'erano già le voci il primo internet del 2001 che quello fosse il Darth Maul che stava tornando perché era inconcepibile che una delle cose più fighe di episodio 1 fosse stato cancellato tanto che dopo è stato ripreso e adesso è ancora lì che macina per cui stessa cosa di Boba Fett ma non è che lui ha fatto veramente Star Wars senza rendersi conto di cosa stava facendo perché non doveva toccare manco episodio 4 del 67 ma comunque lui ha voluto rimetterci in mano ed episodio 1 è una dimostrazione che a lui evidentemente di tutto quello che aveva creato non gliene poteva fregare di meno super egoista per la sua roba e continua a dire le intervisti per me Star Wars è roba per i bambini di 13 anni il resto mi fai un cazzo e lui continua a dire così continua boh è una roba che bambini di 13 anni senato galattico volo il episodio 1 non è per bambini di 13 anni cioè o è per bambini piccoli o è per adulti nel senso ma più che altro c'è la roba del senato è pazzesca cioè è un film con un intrigo politico che era difficile da capire per un adulto figuriamoci per un bambino sì ma vogliamo parlare della principessa prima è lei poi è la controfigura poi è ancora lei questa cioè io alla fine filmetto ma questa era la principessa oppure no ma ancora adesso la gente non ha capito se fosse Nira Knightley Natalie Port boh cioè dopo un po' io capisco il colpo di scena ma me lo fai due volte e dici ma perché posso dire con colpo di scena che non serve a una bene amata non serve a niente però veramente no lei è la principessa non è vero non è la principessa no no ma alla fine è la principessa io gli dico ma questa è la principessa non capisco ma secondo me serve allora intanto per dare appunto il pretesto a Padme di visitare Tatooine incontrare Anakin e va bene poi per dimostrare che lei è una persona di buon cuore che anche se questa regina che sembra così fretta distaccata eccetera in realtà è un personaggio positivo esatto è ultra positivo addirittura come dire dà importanza anche a un bambino che è uno schiavo eccetera sì serviva a quello poi certo che per quanto riguarda ad esempio vanno dai Gungan e c'è la questione dello scambio lì non serviva a niente quello no tra l'altro lì c'è un errore nell'adattamento italiano che mi farà brividire ogni volta che dice se ci fate caso è perché tanti non se ne rendono conto dice la nostra fede è nelle tue mani ovviamente non era fate nel senso di fede ma fate nel senso di sorte la nostra sorte è nelle tue mani a me ogni volta farà brividire quell'errore lì ma poi un'altra roba assurda allucinante che per far cioè per me ho detto boh non ne hai presa una Giorgi in quel cast di film se voi guardate i contenuti speciali nel casting arrivano in finale tre bambini tre uno di questi tre bambini è un mostro ed è identico a Mark Hamill cioè sembra Mark Hamill piccolo è bravissimo credibilissimo che ha preso lo scarso quello che non sapeva far recitare zero nulla cioè un bambino più scarso così nel cinema io non l'ho mai visto mai magari non l'ha preso proprio perché era troppo uguale a Mark Hamill ma noi sappiamo che in realtà porca puttana fai uno il vero motivo il vero motivo per cui il vero motivo per cui l'abbia abbracciato in atto scuro è perché non gli è arrivato Turbo Man per Natale che questo lo sappiamo è vero in effetti in originale il povero bambino è scandaloso mamma mia ma secondo me era scandaloso anche doppiato perché guarda che le movenze cioè non aveva la minima la cosa più figa riguardo per coerenza hanno preso Aiden Christensen perché se era cane da bambino da adulto però l'unica cosa figa riguardante l'anachim bambino di quel film è il poster con lui che proiettora ombre di Darth Vader basta è l'unica cosa sensata di quel film bellissimo 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 il mio hyper alle stelle quando sono andato a vedere il film e invece no prima appunto alcuni dicevano il protagonista è Anakin ma pare dopo 45 minuti qual è vero e poi sì c'è la scena della corsa degli sgusci e alla fine poi arriviamo al finale perché io ho sentito no il tunnel della morte nera che roba inconcepibile non so se vi ricordate il finale di questo film me lo ricordo l'avevo dimenticato prima nei momenti di what the fuck totale un nervoso ok ok l'avevo rimosso però Anakin è incredibilmente passivo in tutta la fase centrale scompare anche Anakin quindi lo ripeto il protagonista è Koi-Gon però e qui io inserisco un altro problema secondo me i personaggi non sono caratterizzati bene cioè hanno delle personalità veramente abbozzate io prima ho letto qualche opinione prima di cominciare la diretta i prequel ci hanno regalato personaggi memorabili poi arriviamo a episodio 2 e 3 la situazione mi sembra migliora migliori però qui in episodio 1 ma di memorabile cosa c'è c'è lo stesso Koi-Gon lo stesso Koi-Gon è diventato affascinante più per la costruzione successiva che per la sua presenza in questo film e per il fatto che crepa secondo me ma io sicuramente rimane vorrei ricordare vorrei lanciarvi questa cosa di cui mi pare non si sia parlato approfonditamente così poi vado perché devo andare via adesso ve la lascio qua così se volete ne potete discutere vogliamo parlare del fatto che per connettere questa trilogia ai prequel come se già la presenza di Darth Vader da bambino non bastasse hanno dovuto rendere C3PO costruito da Anakin ma sì se riesco torno quella per me rimane una delle più grandi troiate che si siano viste in Star Wars perché cazzo lo deve costruire Darth Vader cioè non ha senso ma se quel che è peggio cos'è non ha il minimo effetto sulla trama no era solo per mettere un collegamento però per dire R2D2 con service sì ma non è neanche fan service fatto bene è proprio una roba inutile che oltre a non aver niente nessun impatto sulla trama ti dà anche quel senso di fastidio sottopelle di cui non ti liberi io leggo è una figata che se lui il creatore io chiedo al commentatore cosa cambia questo elemento a livello di trama niente niente anzi devono addirittura cancellargli la memoria perché sennò non tornano le cose quindi eh sì inutile ma bellissimo per me non è bellissimo bellissimo è un collegamento forzato da far schifo io vado ragazzi ci vediamo dopo scusate dello scappare ciao comunque sì è una mania è una mania di Lucas di voler spiegare tutte le origini in questa trilogia no quando bastava che fosse un qualunque allora poteva anche non esserci per dirne una lo vuoi mettere perché appunto vuoi eh fare ok un po' di fan service ma ci sta è un droide può esistere da parecchi anni no è già stato costruito Giovanni cioè Anakin è di Tatooine dove poi c'era Luke dove poi rivediamo già ha proprio ha fatto è un pastroco no no ma infatti ma infatti secondo me allora se volevi metterlo potevi metterlo in tanti altri modi poi ho tutto sommato allora fosse questo il grande problema del film non è il grande problema però ad esempio leggo ma per creare un legame quindi non è effetto sulla trama ma tu quando rivedi film ho capito ma bastava dire è il droide protocollare di mia madre Watto ce l'ha dato come gentile concessione perché se poi vedete nella bottega di Watto c'è un altro droide protocollare quindi il bambino ha creato un droide identico a tutti gli altri che vede cioè non c'è inserito delle cose particolari la fantasia del bambino non fai il droide che trovi il supermercato magari qualche dettaglio poi vabbè anche qua la motivazione può essere che vuoi far vedere che appunto Anakin è un ottimo meccanico e allora quindi diventa credibile il fatto che abbia costruito lo sguscio ok però è una spiegazione che insomma puoi anche solo far vedere non basta non basta il fatto che lui sia l'unico ma penso che ma penso che fosse più che altro per rendere credibile agli occhi ad esempio di Qui-Gon il fatto che lo sguscio lui l'avesse costruito e lo sapesse pilotare ma puoi anche solo far vedere potevi anche solo far vedere che Watto per dire era aveva un'officina adesso sparo a caso e lo fai vedere al lavoro ma sì ma poteva tranquillamente fare un altro droide che non c'entrava niente con la saga sarebbe stato ancora più interessante secondo me George Lucas aveva bisogno di collegamenti con la vecchia tecnologia così ci ha fatto vedere anche la genesi di C3PO sì 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 ma poi penso che fosse proprio come dire anche un suo non so se dire esercizio di stile è proprio il termine giusto però era come dire il voler proprio giocare con i personaggi che aveva creato precedentemente metterli tutti insieme far vedere come in questa galassia enorme poi sono sempre i soliti alla fine che si incontrano una galassia piccolissima in realtà sì 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 esatto una galassia piccolissima come nonostante a me sia piaciuta molto ad esempio la seconda stagione di The Mandalorian però è una galassia minuscola che di settimana in settimana abbiamo Din Djarin che incontra tutti i personaggi possibili visti in questi decenni sì sono tutti esercizi di fanservice e di stile che servono più secondo me come è quasi una cosa fumettistica mi viene in mente i fumetti Marvel magari più vecchi forse in cui vedevi in continuo personaggi che si incontravano che si non so come dire però veniva tutto a New York non in una galassia sì ciao Emilio Alves yordian Bounce salve tutto bene tutto bene tutto bene sento un microfono un po' strano non so se è il solito che utilizzi oppure è entrato in automatico quello secondario controllo subito aspetta un secondo scusate secondo me è entrato quello secondario in azione perché di solito hai una qualità più alta comunque nel frattempo vi dico che secondo me altre problematiche del film sono il ritmo che è troppo blando troppo soprattutto tutta la fase centrale sempre il senato 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 e nei film precedenti mi sentite meglio scusate ora? sì decisamente ecco ti qua ecco ti qua ok allora ne approfitto parlaci della tua prima visione della minaccia fantasma opinioni sensazioni dell'epoca raffrontate con quelle di oggi magari è cambiata la situazione è cambiata sì soprattutto perché quando ho visto la minaccia fantasma avevo 7-8 anni quindi sei un bambino certe cose le apprezzi altre no perché la minaccia fantasma rispetto agli altri film pone questo aspetto fantascientifico non è più fantasy mette la fanta politica e la fantascienza quindi la spiegazione fantascientifica della forza è in midi la fanta politica che hai praticamente un embargo come rappresaglia per delle tasse e già inizia dal crawl così quindi sei un bambino non capisce niente tu le salti il voto di sfiducia e la maggioranza che devono trovare all'interno è un casino cioè politicamente effettivamente per un bambino che era abituato a teologia originale arriva lì e non capisce niente dall'altra parte c'è comunque l'azione hai Anakin che è un bambino in cui puoi più o meno immedesimarti e da bambino quella parte scorre da adulto credo che sia un po' il contrario cioè ti annoia la parte di Anakin però magari riesci a capire meglio le situazioni delle corporazioni del perché non si trova una coalizione in senato eccetera eccetera c'è da dire che poi ti rendi conto che è un film diviso in tre parti una per adulti una per bambini e una che cerca di omaggiare la teologia originale in questo mashup non sempre riesce a mantenere un ritmo decente comunque diciamo un'unione corretta e sono proprio delle parti che sono la battaglia finale l'emblema di tutto il film perché è la parte drammatica con i Jedi spezzata con Jar Jar in questa computer grafica tutta verdeggiante nello spazio Anakin che è bambino fa omaggio comunque alle morti nere ma in quel giallo dei veicoli che dovevano vendere un po' alla Minions che hanno quel giallo che attira i bambini per vendere e quindi è quello lo screensaver di Windows XP comunque mi hai fatto venire in mente con la battaglia di Naboo bellissimo visto che è la seconda volta che lo citiamo io qui lo dico avete rotto le balle per quel cavolo di buco sulla morte nera che perché c'era ragazzi in episodio 1 il conflitto bellico viene risolto da un bambino che entra nell'astronave madre della federazione del commercio spara a caso e la fa esplodere ed era sull'astronave a caso che parte da solo però episodio 4 è il problema ma c'è episodio 4 fa ridere il buco di trauma la stazione da battaglia c'ha il buco quando in tutto il film ti dicono una roba impossibile soltanto un pilota con incredibili capacità e muoiono tutti attorno e si salvano solo Anakin e Wedge qui c'è il bambino che risolve il conflitto bellico sparacchiando a caso perché sapeva pilotare gli sgusci suppongo ci sia una certa differenza tra gli sgusci creati in casa e una cazzo di astronave di Naboo invece no ma poi scusami ma io una cosa che mi sono sempre chiesto cerchiamo di capire stiamo andando a sconfiggere una stazione da battaglia e tutte le astronavi sono collegate automaticamente per cui che ci sia il pilota o meno tutte vanno alla battaglia il caso vuole che Anakin era lì con la sua switch che stava accendendo i cazzi suoi si è trovata a spingere un tasto a caso che ha colpito esattamente da un hangar dove ci sono le astronavi ha colpito ha fatto una sorta di domino boom ha distrutto ha vinto tutto grande Anakin numero uno e ma Roby lo sai che guidare un carro armato è uguale a guidare il furgone un carro armato col pilota automatico che ti porta alla battaglia non si capisce è quello che non si capisce anch'io perché effettivamente è un hangar con i droidi che arrivano però è il nucleo del reattore io non l'ho capito neanche io effettivamente Roby me lo sono sempre domandato anch'io non so spiegarlo secondo me il costruttore poi è il padre di quello che ha fatto la morte a questo punto a questo punto no immaginate se all'inizio quando distruggono la nave della repubblica questa avesse colpito il reattore visto che era nell'hangar un pezzo un pezzo che va nel reattore esatto finire dopo 30 secondi mi sa che ha messo la motivazione canonica che quelle navi lì non sono armate forse per risolvere questa perché erano diplomatiche adesso hanno spiegato canonicamente che non sono armate probabilmente per coprire questo buco può darsi io non sono particolarmente esperto di navi e veicoli però può darsi l'ho letto poco fa è un'informazione recente si vede che hanno rettificato ma anche perché se viene in mente io dico sempre se viene in mente a noi sarà venuto in mente a loro prima o poi e non necessariamente ecco poi nei film precedenti abbiamo elogiato tantissimo lo show don't tell ovvero il mostrare senza bisogno di spiegazioni qui è tutto il contrario parlano 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 è tutto anche sovraspiegato forse alla fine non capisci lo stesso perché appunto la roba insenata è di un nebuloso mamma ma poi il piano di palpatine perché ormai diamo per scontate certe cose non ci fermiamo più a riflettere però il piano di palpatine ma quanto è incasinato Robby non l'ha mai capito ma allora lui si allea con la federazione del commercio gli dice voi che siete commercianti che già vi hanno messo le tasse interrompete del tutto i commerci mi scusi ma cosa vedremo poi quindi loro assediano il pianeta Naboo palpatine dice loro se rivedete il film dovete far firmare la principessa il trattato di pace ok e se l'avesse firmato già finito il piano Padme ha firmato il trattato e bom il pianeta è vostro perché qui diventa veramente parleremo un po' episodio 2 perché con episodio 2 complica ancora di più però effettivamente lui non si aspettava i due geli infatti li manda finis valorum quindi c'è poi la cosa lui voleva far firmare perché era senatore così col voto di sfiducia comunque sarebbe arrivato ma non è finita è complicatissimo però perché poi allora forse deve spiegare che deve sperare anzi che lei non firmi scappa con i jedi arriva lì e c'è il voto di sfiducia ma che allora questo poi alla fine perché in star me l'hanno spiegato benissimo nell'universo espanso c'è un intero libro che ti spiega sta roba ok bene però nel film ma cos'è no ma al di là poi di libri eccetera l'unica poi spiegazione plausibile di tutti i piani di Palpatine che siano il blocco di Naboo va bene le guerre di cloni perlomeno è già più chiaro il motivo però il blocco di Naboo e la battaglia di Endor perché era la trappola famosa e il primo ordine l'ordine finale eccetera alla fine tutto è sempre perché lui praticamente ha delle capacità sostanzialmente quasi di visione del futuro e di sa già tutte le reazioni che avranno tutti i personaggi tranne sempre quel briciolo però alla fine si è sempre un casino che come lo spieghi Palpatine sa quasi tutto però come lo a me in chat dicono il piano di Palpatine è fare in modo che Padme dia il voto di sfiducia verso il cancelliere allora tu ai neimoidiani non dici fatele firmare il trattato ma queste sono le cose che vedremo continuate ad assediare il pianeta neri il mio piano anzi è necessario che magari la facciate scappare no no invece no no fatele firmare il trattato di pace e se questo avessi firmato io ho firmato il trattato perché non voglio che il mio popolo muoia rimango qui ho firmato magari a quel punto sarebbe stato lo stesso Palpatine che era già su Coruscant a chiedere il voto di sfiducia perché il suo pianeta era stato e allora cosa serve in primo luogo aspettare che arrivi Padme se lui stesso potrebbe dare il voto di sfiducia perché a quel punto magari era scappata non lo so perché poi uno dovrebbe appunto e se non fosse scappata dovresti farti lo schemino con tutte le le dirammazioni ma altra cosa qualcuno ha mai capito la scommessa tra Watto e Qui-Gon del bambino e la madre sì in che senso ho capito non ho no perché perché cambia allora all'inizio fanno un patto che poi muta in corso d'opera ma 50-50 io non ho mai capito ah perché c'è quella parte lì sì anche quello è un pochettino cioè alla fine che cazzo avrebbe vinto avrebbe avuto una parte della vincita perché adesso poi dunque non me la ricordo neanche più perché è particolata anche quella risentite il dialogo iniziale perché poi diventa più chiaro quando stanno per iniziare a gareggiare lui dice dammi il bambino ma all'inizio ma all'inizio è per avere come till la nave che però non sapevi che Anaki l'avesse creata però adesso lo sai e allora lui usa quella però se la distrugge e io prendi i soldi e gli schiavano ragazzi è un casino anche quello in poche parole è il modo per ottenere i soldi per pagare lì la quota di iscrizione all'inizio e poi dopo per pagare le riparazioni e poi dopo per prendersi sì c'è proprio un escalation altra domanda mirabile mirabile e di fatti scusa e di fatti poi Watto va sull'astrico e finisce sull'astrico ma allora appunto la madre deve rimanere su Tatooine mi fa molto piacere però al termine del film in teoria torna torna la pace e Padme diventa molto amica di Anakin quindi ok l'attaccamento è proibito dai cavalieri Jedi siamo tutti d'accordo ma magari tornare su Tatooine comprarla a peso d'oro da Watto e metterla non lo sei in una residenza su Naboo bella contenta ma non solo ci ha provato in un romanzo ma non solo una delle robe che a me mi rimase impressa era il fatto che ma scusami lui è un Jedi è potentissimo Watto è un cazzo di cose volanti che fa ridere gli dice non rompere i coglioni prendo la madre la porto via ci vuole due minuti mi sono rimasto proprio male perché ok lui è corretto e onesto però intanto ha spostato il dado con la forza ha provato a diplomatizzarlo col cazzo quei guardi io ho sempre pensato comunque che il trucco mentale Jedi sia dal punto di vista etico morale abbastanza problematico abbastanza problematico ma tra l'altro la cosa proprio che diceva giusto Roby della madre di Giorgio e Luca sull'affare Anakin sedicenne che allora anche la parte su Naboo ci sta ma voleva fare sto distacco a ogni costo che era la base del suo lato oscuro quindi ha forzato tutto per il distacco con la madre perché se no anche noi come tutti abbiamo pensato Padme sei ricca sei la regina di Naboo c'è un sacco di soldi compra effettivamente una casettina sul tuo pianeta porta la via qua i gongine libera la carica sulla stiva della nave nascosta parti non ti raggiunge guatto però doveva per forza metterci questo distacco con la madre doveva essere piccolo di nove anni non più adolescente se non era così forte e tutto il resto che diventa una forzatura unica effettivamente intanto ci dicono gli schiaviano una bomba nel corpo what disattiva la bomba nel corpo della madre oppure ti faccio il culo così anche lì però il trucco mentale hanno spiegato che il video di Oriani non funziona è arrivato ma tanto bastava accendere la spada laser sì poi ok qua i gonoli però nel senso vabbè sarebbe stato diciamo un bene superiore alla fine vi propongo quest'idea ma ad esempio su Tatooine scambiare Qui-Gon con Obi-Wan proprio a livello di trama Qui-Gon resta sulla nave Obi-Wan va sul pianeta trova Anakin quindi primo contatto tra due personaggi che sappiamo saranno legati e Obi-Wan a notare che questo bambino è molto potente nella forza e magari fa lui l'analisi la manda con i gon sulla nave con i gon si intrippa oh questo potrebbe essere il prescelto importantissimo perché Obi-Wan in questo film non esiste a parte nel duello finale non esiste ma il difetto di tutti i prequel secondo me partono da qui non vediamo Maian e Obi-Wan insieme nel primo episodio se non alla fine nel due me li fai vedere che sono sempre in disaccordo me li separi e nel terzo effettivamente c'è la rottura ma non è così forte perché mi mancano le basi che partono da episodio 1 anche il dialogo stesso finale il funerale di Qui-Gon Anakin vuole diventare un Jedi il suo sogno c'è il funerale della vostra figura paterna per Kenobi per Anakin colui che lo ha liberato la prima figura paterna che ho avuto sei lì tutti silenti e dici diventerai un Jedi in quel momento drammatico gli stai dicendo la cosa più bella della sua vita cioè la sceneggiatura dopo del film non lo so a me mi ha sempre lasciato poi crescendo questi alti e bassi memorabili secondo me tutte le ambientazioni il duello con Maul mi è molto piaciuto e volevo anche chiedervi se avete parlato della computer grafica sì prima brevemente fugacemente ma sì perché anche quello come siete messi e schierati no di certo c'è una sovrabbondanza però credo che soprattutto questo film anche i successivi fossero stati studiati apposta per mettere in luce questo grande sfoggio di CGI avveniristica d'altro canto Lucas decise almeno questa è una delle storie più o meno ufficiali decise di fare i prequel dopo aver visto Jurassic Park e quindi essersi convinto che i tempi fossero maturi secondo me aveva ragione Andros settimana scorsa la vecchia trilogia innovava per quegli anni e i prequel tra i tanti difetti hanno quantomeno il pregio di aver innovato l'utilizzo degli effetti visivi e della computer grafica su questo non ci piove secondo me però in eccesso è tutto molto finto soprattutto su Coruscant però Jar Jar per quanto sia è il primo personaggio virtuale costruito su un vero attore assolutamente tutti si ricordano il Gollum chissà perché però Jar Jar è stato il primo che poi tra l'altro in realtà c'è meno CGI di quanto pensiamo nel senso che tanti oggetti sono proprio tangibili ma sono stati poi magari patinati un po' ritoccati diciamo resi più brillantinosi nelle panoramiche vedete le cascate e molti pensano che sia computer grafica in realtà hanno versato il sale e lo hanno filmato quindi c'è ancora questa componente che è saltato fuori per il risveglio della forza e tutti dicevano sì torniamo ai metodi artigianali e quelli della Lucas dell'Industria Light & Magic hanno detto c'è più computer grafica qui rispetto all'episodio 1 però è becchiata male cioè nessuno che là erano i primi esperimenti quindi anch'io spezzo una lancia in favore che ha provato in qualche modo rivoluzionale ma come anche poi ma quello lo diremo poi prossima settimana in episodio 2 per dirne una adesso proprio brevissima parentesi l'arena di Geonosis era un modellino è stata filmata e poi appiccicata sul green screen però quanto sembra quanto sembra invece parlocca parlocca invece era vera la super chat perché Qui-Gon e Obi-Wan non testimoniano in senato che il pianeta Naboo è stato invaso chi non avrebbe creduto ai Jedi in realtà la spiegazione che ti danno è il senato è così tanto corrotto che la testimonianza non serve a una mazzafionda di niente sì perché ci sono i burocrati c'è Valorum che è accusato anche per me non ha senso specciose accuse di corruzione esatto alcune battute devo dire sono bellissime però sì ma le specciose specciose accuse di corruzione non so perché un saluto a Robert Downey Jr accogliamo con piacere ok grazie King Master perché qualcuno pensa che sarà il grande ammiraglio throne forse ah non lo sarà ma per carità poi ma sono le solite fonti solite fonti farlo eh no infatti perché non c'è ancora nessuno chi sarà in l'ammiraglio throne che era solo un fake ho visto un fan art sì tornando a episodio 1 poi lo stiamo continuando a toccare di sfuggita ma questo Jar Jar questo Jar Jar Binks come lo valutiamo? io l'ho sempre detestato in maniera potentissima rappresenta tutto quello che io odio in qualsiasi tipo di film quando io faccio improvvisazione teatrale da ormai 20 anni per cui la comicità per me è una cosa molto importante e deve essere bilanciata è una mia esigenza personale per cui deve avere un bilanciamento molto particolare per me c'è o l'aereo occupazio del mondo che è un film demenziale e proprio le voglio vedere quelle cagate oppure c'è la trilogia classica dove quello che fa ridere è C3PO ed R2D2 che sono buffi ma hanno un perché hanno un senso sono scritti e raccontati con un senso K2SO per me è una bomba totale fa ridere ma perché fa ridere lui fa ridere per come si approccia e Jar Jar è una macchietta io la chiamo in termine tecnico macchietta impressionante tutto quello che fa è gratuito è continuo è ridondante a un certo punto ti fa vedere che è un iperpotente che fa sto salto mortale e poi dopo è un imbecillo ogni cosa che dice è sbagliata è impacciato è il signore dei sì quella teoria è meravigliosa bellissima 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 per cui veramente il fastidio totale è stato proprio una roba incomprensibile per me poi quando viene il bambino che ti dice ma perché a te non ti piace il episodio 1 che a me è piaciuto tanto perché c'era Jar Jar capisci che in una piccolissima percentuale immagino di ragazzini ha fatto breccia purtroppo i fan storici non così tanto secondo me dura poco la fascinazione per Jar Jar però è superata quell'età crolla miseramente non non regge probabilmente è una soglia fino agli 8 anni se lo vedi lì magari fino agli 8 anni l'età di Anakin già dai 9 penso che diventi difficile anche meno secondo me vi dirò di più probabilmente piaceva i bambini perché era l'unico appiglio a cui aggrapparsi nella noia generale cioè almeno c'è questo che fa le pirlate fa ridere al computer sembra un cartone è simpatico perché il resto Qui-Gon il prescelto della forza Obi-Wan che non c'è poi arriva il bambino che anche lì ok mi aggrappa il bambino adesso è così non vedo altri motivi poi ha fatto una fine miserevole nell'universo espanso poverino però Jar Jar mi spiace anche Darth Maul a fare il buffone su una buca che tra l'altro è un come dire è molto metanarrativo no? perché è proprio lui è amato dai bambini è odiato dagli adulti come del resto nel mondo reale alla fine quindi devo dire che però mi dispiace un sacco ma mi è piaciuto anche abbiamo toccato anche Darth Maul io prima ho letto Paragoni tra Darth Maul e Boba Fett mi spiace mi spiace le fine che gli hanno fatto fare sì allora Boba Fett era un personaggio secondario Darth Maul dovrebbe essere il cattivo del film dice tre frasi tre non sappiamo bene perché faccia quello che fa se non è cattivo è cattivo va contro i Jedi perché la vendetta vendetta di cosa è cattivo ok e muore subito lì la campagna di marketing era costruita molto profondamente sull'impianto Darth Maul perché aveva un aspetto accattivante l'aspetto aveva le spade aveva la doppia spada laser di Darth Maul ancora prima che uscisse il film l'aveva regalata quindi anche mi ricordo a livello di marketing era assurdo ma qui vi chiedo non era meglio tenerlo come cattivo nella trilogia prequel perché non ha senso tu hai dieci anni prima di stacco e tutti i personaggi che poi citano in episodio 2 non li hai visti nell'uno Sifo Dias Dooku cioè tienimi Darth Maul questa è proprio secondo me la cosa assurda che hai compiuto perché comunque era un personaggio che introdotto me lo porti avanti ci può stare invece me lo levi così tant'è che poi l'hanno ripescato per forza per forza ma come ha fatto a non accorgersene come ha fatto a fare un personaggio così potente che anche lui lo descrive come ha voluto mettere in campo l'incarnazione della paura un incrocio tra un diavolo un mostro con gli occhi gialli i tatuaggi rossi e le corna cioè l'incarnazione della paura un personaggio che come dicevano i ragazzi prima non ha background non ha niente ma non puoi fare altro che innamorarti perché è cattivo è cattivo quando è dietro alla barriera che guarda con i gon con i denti neri con gli occhi sbarrati è la cattiveria appunto hai fatto un personaggio piatto che rende perché è soltanto cattivo hai già vinto come hai vinto con Vader hai vinto anche con Maul lo secchi è vero è vero ma quelli sono e Lucas quando crea personaggi iconografici a parte Darth Vader tutti non se ne rende conto Grievous anche Grievous io dopo ne parleremo nel terzo ma come fa la fine lui non lo so sprecato per me da un certo punto di vista diciamo è anche un connotato geniale perché quest'uomo senza rendersene conto crea roba iconica ma il fatto che non se ne renda conto è problematico però sfrutta quello che partorisci buon uomo sfruttalo tra l'altro sempre per fare il parallelismo e per irritare i fan di prequel Boba Fett porta a termine il suo incarico Darth Maul no bene ma l'avete sentita poi la la questione di Darth Maul come cattivo di una delle tante perché poi George Lucas ha tirato fuori mille idee diverse mille dichiarazioni diverse per la sua trilogia sequel ne ha dette di tutti i colori e una di queste prevede Darth Maul come cattivo principale è un Darth Maul ovviamente re di vivo anche lì gambe meccaniche eccetera come cattivo principale con la sua apprendista Darth Talon che non so se la conoscete che è sit presente nell'universo espanso adesso aspetta che vi prendo una sì una porno star sostanzialmente io ho una guata tuilek ipersexy una bocca conica una pinappa e una porno star esatto benissimo e poi l'ultimo punto che mi sono segnato poi magari leggiamo un po' di commenti è l'ordine dei Jedi io non so perché abbia trasposto l'ordine Jedi in questo modo anche lì ai Samuel L. Jackson messo Hindu ok mettiamoli in una bella stanza ovale che parla sono diventati un ordine monastico dove gli accoppiamenti sono vietati gli attaccamenti sono vietati e no è troppo grande non lo addestriamo e il senato non contiamo un cazzo però siamo alleati del senato e dobbiamo fare quello che ci dice il senato mamma mia tra l'altro mi è venuto in mente su Samuel L. Jackson se voi guardate nelle scene finali quelle sono ristrate a Londra Samuel L. Jackson non poteva c'è la controfigura vestito lui fateci caso perché è bellissimo e quelle poche scene che hai fatto fare Samuel L. Jackson effettivamente non risplende in questo primo film ma io posso capire che questo è il momento di buio della galassia ma almeno in episodio 1 fammene vedere fighi poi in episodio 2 mi fa vedere come purtroppo debbano consentire alle regole del senato e quindi debbano scendere in guerra contro voglia ok cioè rendemeli più devo parteggiare per questi qua perché quando muoiono in episodio 3 a me paradossalmente viene da dire se lo sono meritati sti stronzi perché chi ha di mundi non so io ragazzi ma anche Yoda sì anche Yoda bravo infatti perché ha questa freddezza che dici ok anche se forse è quello che fa la figura un po' migliore perché gli altri sono proprio stronzi lui perlomeno un minimo di comprensione la dimostra un minimo proprio poco poco gli altri sono degli stronzi e basta ma terribile ma anche lì poi no 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 non lo addestriamo non lo addestriamo alla fine del film caro B1 abbiamo deciso di farglielo addestrare perché? però perché è morto colosì sei maestro ma non sei maestro così ti faccio proprio incazzare non sei maestro ma stai con noi bene però scusatemi ultimo desiderio questi prevedano che questo bambino potrebbe distruggere l'ordine però era l'ultimo desiderio ok ma mi avete detto di no perché c'è un grandissimo pericolo ma era l'ultimo desiderio c'è un controsenso perché effettivamente loro prevedono sta cosa e poi Gogni dice il futuro è nebuloso guarda il presente dipende come lo cresce è un bambino cioè nel senso che è ancora puro loro lo crescono distaccato trattato malissimo è arrogante cerchi di affascinarti che magari non ti diventa la paura che tu vedi in questo futuro no se ne sbattono proprio vai vai eccezionale e ripeto qui ormai l'abbiamo accettata questa cosa siamo cresciuti con l'ordine Jedi così va bene ma è terribile secondo me non erava terribile è terribilato però cioè gli Jedi nella teologia classica erano una roba misteriosa affascinantissima che avremmo voluto scoprire tutti e invece antipatiti insopportabili bigotti e ritorniamo sembra appunto di prima ma chi dovremmo affezionarci in questo film chi è il protagonista non lo so non lo so forse Valorum poveretto anche lui mi ha sempre fatto tra l'altro il nome devo dire il nome è molto azzeccato perché è la fine dei valori in latino finis Valorum lui in realtà l'attore che tra l'altro insomma è un signor attore non mi ricordo il nome Terrence Stamp esatto Terrence Stamp la sua parte cortissima è molto intensa perché si vede che lui proprio si vede che è vittima degli eventi in quel poco lo vedi che ci credi in quello che sta facendo e forse secondo me Qui-Gon è piaciuto molto perché Lionel ha dimostrato la sua enorme capacità professionale di saper recitare in situazioni difficili cosa che Evan McGregor non è proprio riuscito l'ha sempre detto lui lui era completamente spaisato da sta cosa per quello io sono molto curioso di vedere il prossimo progetto perché nel prossimo forse vedremo un Evan McGregor veramente convinto nei panni di Obi-Wan perché a me piace da matti lui come attore ma quanto mi piace poco nella trilogia Prequel si manca Natalie Portman nei prequel perché già non era bravo a gestire gli attori era dal 1977 che non tornava alla regia non è migliorato non facendo esperienza effettivamente anch'io ha preso un cast migliore comunque più conosciuto più esperto rispetto a quando ha iniziato con episodio 4 ma se non sai gestire gli attori alla fine la sua mania la sapete quella di girare massimo 3-4 volte la scena e poi prendi la migliore delle 3 o 4 ma se la scena viene male la gira anche una quinta una decima no massimo 3 o 4 volte e quindi anche quello fa poi certo se già non sai dirigere bene gli attori se non sei un gran se non sai tirar fuori il meglio da loro se poi giri anche 3-4 scene insomma diventa con un bambino che dirigere un bambino è la cosa più difficile perché gestire un bambino sul set non è facile come un adulto quindi ti sei incasinato ancora di più infatti mi sembra che è nata di Portman Jake di Lloyd si chiamava l'attore erano considerati nell'anno Rezzi Award peggior copia aveva avuto una carriera questo bambino sul nascere sì sì ok cerchiamo di prendere qualche bel commento che ci dia qualche spunto ulteriore per parlare del film e poi arriverà la classifica anche se così a naso mi sembra abbastanza prevedibile questa settimana ah c'è che ci chiede dei cambi di vestiti di Padme bambole action figure giocattoli minchia qui cominciano ma dopo in episodio 2 all'episodio 3 cloni su cloni blu giallo verde astronauti the clone wars bagonate di roba di giocattoli mamma mia tutti i cloni che hanno un tratto caratteristico poi anche diciamo che Robby ha già risposto a questa domanda ma io diciamo che gli assegno in episodio 1 un non pervenuto io ve lo ripeto Obi-Wan non c'è in questo film sono d'accordo come personaggio mi viene troppo distante dall'immagine che abbiamo perché qui è un Paduan completamente diverso magari già nel 2 è diverso completamente nel 3 iniziamo ad avvicinarci al Obi-Wan che conosciamo ma i primi 2 è primo io non ho mai capito una cosa non ho mai capito una cosa della caratterizzazione di Obi-Wan nei prequel perché lo rendono molto spiritoso come se fosse una cosa che abbiamo già visto nella trilogia originale ma più o meno nel senso ok fa quelle facce un po' così ad un solo quando lui sono il comandante del Millennium Falcon ho fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parse che lui guarda qui però non è che abbia particolari momenti humoristici esatto invece nella trilogia prequel è un simpaticone in episodio 2 cosa fai maestra bevo qualcosa ma come bevo qualcosa boh 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 lo vedremo appunto in questa famigerata serie sono curiosissimo poi mi raccomando domande in topic per la nuova trilogia ci sarà tempo ci sarà tempo un po' in modo di discutere così rimaniamo ancora nei rapporti stiamo in topic quanti anni separano Anakin e Padme qua abbiamo l'esperto Giovanni 9 5 5 anni di differenza 5 9 9 lui 14 lei cioè ha 14 anni in questo film Padme si ok lei è regina eletta perché è una democrazia monarchica però ha 14 anni si si 14 ma del resto Natalie Portman quando ha girato il film ne aveva 16 nel 97 era quel trucco di merda che le mettono addosso e chi era Knightley ne aveva 13 o 14 quando hanno girato il film perché Natalie Portman è dell'81 ha girato il 97 e l'altro penso sia 84 non è bello non è bello parlato di di una roba ma Anakin Gesù Cristo cosa avete la concezione è vero di questa cosa qui a me mi scese molto la catena l'ho fatta mia in realtà non è stata una cosa pessima da andare via dalla sala è stato altro non in questo film ma però dice no vabbè dai Gesù Cristo no è la cosa più banale che potevate inventarmi cosa ne pensate io ammetto che per quanto fosse un po' così ho detto vabbè c'è la profezia che mi tiri in ballo vediamo nei prossimi film quindi gli ho dato ammetto il dubbio poi la profezia si è persa eh sì però lì avevo dato effettivamente il dubbio vediamo come procede può essere un'idea buona può essere un'idea scadente poi c'erano altri prequel sul padre di Anakin secondo me ho detto ce lo togliamo e basta la madre però potevi no era una schiava non è interessante è una schiava esatto eh sì allora io quando l'ho sentita ho detto ah boh ci sta nel senso ok mi fai già capire che evidentemente è il prescelto poi sì poi tutti tra l'altro dicono immacolata concezione in realtà è la partenogenesi vabbè ma adesso poi questa è una mia una mia fissazione perché l'immacolata concezione è proprio diversa ma vabbè è arrivato l'angelo della forza cara Schmitti mette in cinta sì sostanzialmente così no per me è una roba terribile poi adesso l'hanno un po' rettificata spiegata forse è stato Plegis cosa che ufficialmente non è mai stata detta forse è stato Palpatine ma secondo me avevano avuto la mezza idea con quel fumetto ma no secondo me quel fumetto se posso dire solo un momento fare una piccola digressione allora c'è poi una scena molto simile come concetto cioè che mostra qualcosa che in realtà non è anche in un'altra miniserie di Soul che è l'ascesa di Kylo Ren che ti fa pensare che sia stato Palpatine a distruggere il tempio di Luke anziché ben solo in realtà è che Soul ama fare queste cose essere molto come dire stuzzicare molto poi però a volte esagera come in questi due casi e ok il concetto poi era che in realtà Palpatine lo ha plagiato fin da io quasi l'avrei preferito cioè se mi tolgono l'immacolata concezione si ma infatti non sarebbe neanche male no è stato Palpatine o Pleghi sa plasmare la forza creando la vita in questo esperimento incredibile io l'accetterei ben volentieri c'era la spettura di Lusino in Dark Legends poi nel fumetto io l'avevo spiegato alla fine sei in una vergenza come quella su Dagobah quindi è simbolico fanno vedere che effettivamente Palpatine è il padre di Vader l'ha fatto inchinare da ora ti chiamerai Vader e lì infatti vede anche Obi-Wan che dice I am your father cioè sarebbe il padre del Cavalier Jedi e il padre del Sith è onirica perché effettivamente siamo in una vergenza è tutto onirico ha fatto un po' così come dice effettivamente bene Giovanni tirano fuori queste cose un po' simboliche perché qualcuno le coglie altri e di fatti poi ci va sempre Matt Martin che è un membro del Lucasfilm Story Group ci va sempre Matt Martin che poi dice no ma in realtà è sempre stato ben solo a distruggere il Tempio però è come la scena no che cosa ho fatto di Anakin in episodio 3 no che a quel momento di lucidità durante la follia non si mettono d'accordo è palese sì no vogliono più che altro secondo me vogliono lanciare un po' delle provocazioni stuzzicare ma ogni tanto esagerano e quindi i fan leggono cose che loro non intendevano ma che appunto siccome si sono spinti molto in là ecco hanno lasciato spazio a queste interpretazioni vediamo altre domande allora che magari trattino altre tematiche altrimenti sfodero la classifica la classificona c'è chi dice è difficile accettare la scelta che non c'è un padre ma alla fine ci sta tutto per me no comunque di questo abbiamo già parlato che ne pensate di come sono cambiati i combattimenti con le spade laser ma allora così sono appare la prossima volta sicuramente erano combattimenti più in stile con le esigenze dell'epoca 99 noi ti vediamo ha alta modalità nella gestione delle scene d'azione per carità però per me sono tutta apparenza e zero sostanza ci sono dei ballettini coreografati anche belli da vedere ma c'è il combattimento Obi-Wan Qui-Gon contro Maul non ha pathos non ha grip per cosa combattono io sono cattivo o vi siete buoni via scontriamoci vediamo chi è più bravo sembra quasi una prova d'abilità sì sì su quello che è su quello sono d'accordo volevo sapere un po' hai perso Roby eccolo ti è staccata la connessione non so perché eh ma l'interferenza l'interruzione delle comunicazioni può voler dire solo una cosa l'invasione poi ci chiedono cosa avete pensato alla prima apparizione di Palpatine ma in veste senatoriale o in veste da incappucciato misterioso ma la fine è palesissimo cioè nel senso è ovvio che non viene neanche nascosta la cosa no è proprio però il relatore tra l'altro era lo stesso che ha fatto l'episodio 6 quindi mi ricordo già per quello che comunque si sapeva io ci rimasi male perché non credevo che fosse già vecchio cioè nel senso che credevo che nella trilogia classica fosse vecchio per cui quando ho fatto vedere Ian McDermid che era molto più giovane ho detto che storia cazzo cronologicamente è perfetto perché lo immaginavo già vecchio nella trilogia classica invece essendo la prequel che era giovane mi piacque da matti sta cosa e effettivamente vedere Darth Sidious un nome che non mi piacque assolutamente perché l'imperatore Darth Sidious era un altro mondo vederlo incappucciato col suo naus riconoscibile fu un bellissimo un bellissimo effetto anche perché il personaggio è comunque lui per cui mi piacco molto come cosa però c'è da dire che il nome è stato scelto come caratterizzazione già del personaggio perché Vader sarebbe Invader per l'invasore e Sidious sarebbe Insidious appunto l'insidioso quindi è esatto colui che intriga ecco dovremmo fare una classifica Mattia sui combattimenti di spada laser sarebbe interessante hai ragione hai ragione io non riesco a mandare giù il fatto che Obi-Wan incontri Anakin da bambino troppo gratuitamente incongruente con il suo dialogo con Luke di episodio 4 voi cosa ne pensate? qui abbiamo già un po' di retcon riguardo effettivamente Obi-Wan perché come diceva il mio maestro fu Yoda Qui-Gon Yoda l'ha fatto da Younger quindi già uno poi ho conosciuto tuo padre il migliore pilota non ci hai bagareggiato non l'hai visto su una buca quindi te l'ha massimo raccontato qualcuno il miglior stella pilota lo dice poi riguardo Anakin adulto dice quando lo conobi era già un grande pilota quindi è un pochettino più il miglior pilota no però dice quando lo conobi era già un grande pilota ha fatto la corsa degli sgusci era un grande pilota per quello a vederlo lui era sulla nave lui non l'ha vista con la gara lo sa per sentito dire ma infatti no fa ridere perché esatto era già un grande pilota sì mi han detto che ha vinto cioè perché se poi uno ci pensa era un grande pilota ha vinto la corsa degli sgusci di Tatooine i veri problemi sono altri non ho mai avuto un droide io oh no non me lo dire questa roba qui non la mandano c'è il retcon nel romanzo per bambini gli sussurra gli sussurra gli dice qualcosa del tipo ben tornato amico mio gli dice tipo ben tornato amico mio una roba del genere ma che gli frega di mentire sostanzialmente gli fa l'occhiolino sostanzialmente gli fa l'occhiolino e gli dice ma non questo in realtà se voi guardate la storia di Obi-Wan ed R2D2 non sono mai cioè non dico che non si conoscono perché è surreale ma non sono mai così connessi cioè li hanno sempre tenuti dovete tenere distanti perché deve essere coerente con quello che poi dirà però di droidi ne ha avuti tantissimi Obi-Wan anche morti tragicamente oltretutto e va bene ha detto erano suoi erano della Repubblica erano incomodato d'uso era parte dell'equipaggiamento militare per una nolegge non a caso è considerato diplomatico perché effettivamente volendo ci trovi la sottigliezza e ci sta il negoziatore il negoziatore mi piacciono molto quanti e quali action figure avete avuto da piccoli di questo episodio 1 io ricordo molto bene il carro armato dei tradi su Naboo ve l'ho già detto io avevo il bongo bagnoschiuma e basta io ho ancora l'N1 quello grande così con Anakin poi ho il podracer di Anakin il podracer di Sebulba diversi lego ne ho un pochino di cose sono malato da quel punto di vista però non così tanti ecco io avevo lo starfighter di Naboo proprio perché aveva quel colore giallo che volevi e lo sguscio di Anakin e poi tutte le spade laser praticamente quelle sì quelle che trovavi ma perché mi è venuto in mente che le davano quei punti dal benzinaio addirittura quindi mi andavano a fare la benzina davano e poi prendevi le spade c'era i gadget ormai dati così io zero perché non ero super appassionato all'epoca i miei non hanno mai visto tuttora uno star wars nei miei e mia sorella quindi non siamo una famiglia di diciamo di appassionati per tradizione ecco ebbene signore e signori la classifica che è la seguente per ora dal basso verso l'alto il ritorno dell'ogedi una nuova speranza l'impero colpisce ancora dove collochiamo la minaccia fantasma Giovanni mi dispiace per quanto ci sia affezionato al quarto posto tra questi caro signor di unbounce prego facciamo il quarto anche io rovin sumo quarto e anche io vado ma direttissimo sul quarto quindi la battaglia comincerà settimana prossima credo per decretare le varie posizioni io approccio la parentesi secondo me non è il peggiore dell'esologia lo dico non è il peggiore anche secondo me anche secondo me è molto soggettivo di cosa si intende per peggiore perché è quello che mi ha fatto più incazzare di tutti assolutamente non è episodio uno è altro siamo d'accordo qua le incazzano è altro ma non è l'altro che intendete voi secondo me ci sarà da duellare sulla classifica più andremo avanti però io voglio spizzare una lancia prima vi ho perso non so se ne avete parlato i combattimenti della sequel trilogy di spada sono veramente eccezionali perché hanno quella cattiveria reale che manca in tutti gli altri combattimenti che per me ha avuto molta importanza soprattutto quello di tra Kylo e Rey sui resti della morte nera per me è assolutamente forse uno dei top hai preso le persone sbagliate benissimo poi vediamo le ultime considerazioni quando si tira fuori la classifica c'è sempre da ridere sempre sempre poi c'è già chi commenta l'episodio 2 ci arriviamo settimana prossima l'episodio 2 alcuni lo considerano migliore altri inferiore ci sarà da parlamentare credo è comunque interessante vedete ad esempio c'è chi dice l'attacco dei cloni è la cosa peggiore che possa esistere avete parlato di Bosnas in effetti no è l'unico Gungan che sopporto comunque assieme a Taro un grosso modo dai alla fine quello che crea questa società inizia a essere multiculturale rispetto alla teologia originale che abbiamo sulle mani fai vedere un pochettino gli schieramenti politici ma sì dai non mi ha mai dato troppo fastidio lui è coerente con se stesso è una razza aliena il capo fa da capo insomma dovevano farlo sbrodolare per far ridere ma tra l'altro i Gungan perché parlano in Esperanto anche tra loro dettagli però ecco la città subacquea di Gungan mi è sempre piaciuta molto bella anche le bestie le creature sono molto fighe sì 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 concordo a Watto l'abbiamo già parlato altro idolo indiscusso io ti favo per lui invece è andata male perché come Boba tiene testa a Vader Watto tiene testa a Qui-Gon io no tu non puoi dire tra l'altro parla da Zingaro mi fa morire sì qua c'è un doppiato questo film esatto ha qualche problemino sia in originale che in italiano al giorno d'oggi uscisse ora avrebbe qualche problemino ma già all'epoca li ha avuti io sono sicuro che Watto Jar Jar la federazione dei mercanti c'erano delle critiche di razzismo che poi forse che poi forse in italiano un pochino addirittura è venuto meglio perché la federazione dei mercanti erano cinesi in in originale e già questo insomma e in italiano sono russi vabbè i russi fino a sconfiggere troide esatto anni 90 capito i russi ancora ancora Jar Jar e i Gungan in generale sono caraibici in originale e da da noi parlano questo appunto esperanto europanto questa mescolanza di roba di lingue varie che insomma un po' da qualunque posto possono provenire no? e vabbè poi Uatto è proprio l'aspetto che è un po' problematico lì con questo cappello e questa barba che hanno sono abbastanza inconfondibili eh sì eh sì vabbè se bulba dice due frasi in croce parla in attese però no? parla in attese se bulba non parla l'italiano sì parla mai no 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 parla in attese parla in attese mi ricordo che c'è Anneke che capiva traduceva lui per lo spettatore se non sbaglio però effettivamente non aveva una lingua quando c'erano i sottotitoli a un certo punto quando parla parla come grido credo credo che parlasse la stessa lingua di grido che dovrebbe essere l'attese sì sì l'attese attese tanto le citazioni sì se posso solo dire una cosetta che ho visto che un commento dice che a causa delle numerose critiche diedero l'appalto per il doppiaggio per l'adattamento a un'altra azienda in realtà non è per le caratteristiche è proprio che ci sono tantissimi errori di traduzione in questo film è poco da dire purtroppo infatti a me mi hanno criticato una vita perché io chiamavo Palpatine Palpatine e quindi i primi video che ho fatto mi dicevano non si pronuncia così ma io lo conoscevo dal 1999 in Italia ma l'hanno presentato così mi ero abituato a chiamarlo in quel modo quando poi l'hanno rettificato ma ti ero abituato è uscito nel 2002 poi l'attacco dei croni avevano tre anni che lo chiamavo così l'ho sempre chiamato Palpatine secondo me avevano paura tradotto male c'è un errore di traduzione già nel crawl in italiano e quindi è ovvio che c'è un sito che ha fatto un articolo a cui ho collaborato quindi per questo che è un po' è niente pieno di errori cioè è un cimitero è il film in assoluto della saga con più errori poi ok adesso qualcuno tirerà fuori io mi triggero qualcuno tira fuori stella pilota eccetera non provate a criticare i quote degli stella pilota secondo me avevano paura del doppio gioco Palpatine Palpatina Palpatine e quindi può darsi però Palpatine è brutto c'è di un pesante Palpatine Palpatine Ramstein il singer è Palpatine esatto purtroppo nessuno dice McClanky in questo film ma io aspetto la riedizione con Sebulba che lo dice quando perde McClanky poi per quanto riguarda ultimo dettaglio il cambio di nomi dei droidi è dovuto a Diktat dall'alto è come Star Wars non la più guerra stellare ormai erano nomi internazionali tant'è che in episodio 3 poi Vairano che era il direttore del doppiaggio che è anche la voce poi di Palpatine appunto in episodio 3 e in episodio 9 aveva proposto addirittura di aggiungere una battuta quando dice cancella la memoria del droide protocollare e cambia i numeri di matricola per e sarebbe anche stata una soluzione intelligente in italiano avrebbe sistemato tutto gliel'hanno bocciata senza senza possibilità di appello noi stati uniti li avranno bocciato provate a fare la CIA e Rambos sì sì certo però Vader rimane Darth Fener non nel merchandise e nemmeno nei fumetti no infatti giusto fino a un certo periodo sì nei fumetti tutti quelli Legends ancora adesso hanno Fener però quelli del nuovo canone quelli canonici e tutti Vader c'era Fener solo nei primi episodi di Rebels ancora proprio la prima scena del primo episodio di Rebels c'è l'inquisitore il grande inquisitore che dice sì Lord Fener e adesso l'ha ridoppiato e sì Lord Vader recentemente l'ha ridoppiato un paio d'anni fa anche lì ci dobbiamo adattare ok poi del doppiaggio di episodio 3 parleremo perché Vairano secondo me è veramente un adattatore eccellente ma in episodio 3 è troppo Gollum ragazzi c'è veramente un palpatine troppo diverso dal precedente a mio avviso però vabbè sono opinioni sono gusti ci arriveremo detto ciò direi che siamo arrivati alla fine di questa puntata quindi ringrazio e saluto i miei ospiti cominciando dal Sior Giovanni grazie a te naturalmente per l'ospitalità come ogni settimana grazie ai miei compagni di avventura i telecronisti della storia galattica insomma con cui abbiamo parlato di eventi sportivi ecco appunto Roby lo vedo già intento a commentare la corsa degli sgusci naturalmente grazie e un saluto a tutti gli avventori della cantina di Mosais io ringrazio e saluto di Unbounce grazie mille a te Matioschi a Giovanni e Roby oggi mancava il quinto quindi cos'è primo per lui Finanza Fantasma sicuramente primo in classifica Andros l'avrebbe valutato come primo me l'ha scritto prima sì 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 è il suo preferito maggioranza siamo noi quindi rimane quarto vediamo settimana prossima con l'attacco dei cloni un po' da discuterne io ho scoperto una cosa Roby Ben Quadinaros è un pilota Ben Quadinaros è un pilota è lui che parla di Ben Quadinaros non è lui si chiama allora il commentatore voglio il nome del commentatore non me lo ricordo però tanto ha un nome anche lui è lui che dice Ben Quadinaros che è quello che non parte e dopo gli ti scopre esatto gli vogliono uno spin off su di lui tra l'altro abbiamo rivisto la sua specie nella settima stagione di The Clone Wars che bellina è la specie anche lì adesso non me la ricordo come? Pung ma tra l'altro è bruttissimo sì 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 è orrendo è tutto testa è tutto testa è qualcosa di orribile saluto e ringrazio Roby il nostro telecronista ciao a tutti grazie sempre per questo invito oggi ci siamo divertiti ma secondo me anche la settimana prossima ci divertiremo quella dopo cominceremo a schericcare per il 2 secondo me più o meno saremo ancora più d'accordo che per l'1 ma per il 3 cominceranno i veri problemi poi il Rema Laftecco e il Dopo Lid ci sarà veramente altro che gioia ma una domanda gli spin off in che ordine li facciamo? uscita quindi 7 Rob 1 8 solo 9 beh allora perlomeno tra i due scontri micidiali ci sarà una settimana di pace per capire questo siamo tra settimane di guerra aperta di guerriglia di disastri va bene ci vediamo settimana prossima allora nella cantina di Mos Eisley per parlare dell'attacco dei cloni e vediamo un po' come ci schiereremo perché potrebbero esserci delle sorprese intanto il commento ma veramente si chiama così? credo che sì non credo sia anno due sarà anno due una roba del genere credo datemi il Lego di Fodessinbid anno due adesso devono farla cavolo l'arena di Mosespa con tutti i personaggini i piloti io la voglio Lego se mi senti ci sono alla prossima settimana ciao a tutti ciao a tutti alla prossima mercoledì alle 14 ciao